Musica Buonasera, bentrovati, torniamo ad occuparci di ciclismo e lo facciamo questa sera con due professionisti. Do il benvenuto a Ivan Santromite. Buonasera, benvenuto. E a Pierpaolo De Negri. Buonasera. Benvenuto. Grazie. Siete a Livigno con il vostro team, la Nippo Fantini, due settimane di allenamento in altissima quota. Come è andata? Sì, alloggiamo all'hotel Inter Alpen sul passo del Foscagno e siamo qui per preparare il finale di stagione. Per ora è andato tutto bene, questo ritiro di una quindicina di giorni. Siamo pronti per le gare. Che tipo di lavoro avete fatto? Abbiamo fatto inizio un adattamento qui all'altitudine perché rispetto a noi quando arriviamo qua è sempre un po' difficile adattare il nostro fisico a queste altezze. Poi dopo abbiamo fatto dei lavori specifici, abbiamo fatto anche qualche bel giro tra l'Italia e la Svizzera. Abbiamo fatto il Bernina, abbiamo fatto il Passo del Gallo, il Forno, abbiamo fatto l'Umbrella e il Foscagno perché siamo sopra Foscagno quindi lo facevamo quasi tutti i giorni. Come è andata? Per te non era la prima volta a Livigno? No, io sono da tanti anni che vengo a Livigno a preparare le mie gare, sono sempre abbastanza tra i 15 e i 20 giorni qua a Livigno, mi trovo molto bene perché come zona per allenamenti in bicicletta è una delle zone migliori e in quota. Per Santa Romita invece è la prima volta se non sbaglio. No, sono stato un po' di anni fa a Livigno ma ultimamente preferivo andare in cima allo Stelvio, però diciamo che al Foscagno l'altezza si avvicina quasi a quella dello Stelvio quindi mi sono trovato bene anche qui. Un anno questo molto particolare, innanzitutto l'esordio con la Nippo Fantini. Sì, da 5-6 anni che militavo in squadre estere e quest'anno sono tornato in una squadra italo-giapponese. Hai fatto pace ma non troppo con le squadre italiane. No dai, diciamo che un'anima forte italiana in questa squadra c'è e sono contento di essere tornato in una squadra del mio paese. Anche perché è una squadra che insomma già da quasi un decennio è sul mercato, no? Sì, credo che Pierpaolo... Abbiamo una certa esperienza. Sì, no, la squadra è nata diciamo nel 2014 come Nippo-Vinifantini con una Continental. Però esisteva già come... Sì, sia Nippo che Vinifantini avevano già due squadre differenti. Nippo ha sempre militato in squadre Continental, ha sempre fatto sponsorizzazioni a squadre diciamo italo-giapponesi più piccole e poi ha deciso di ingrandirsi con Nippo-Vinifantini e creare questa professional. Aver corso in squadre all'estero che cosa ti ha dato? Sicuramente ho migliorato il mio inglese perché per parlare devo parlare per forza in inglese. Poi c'era qualcuno italiano come me. Eri arrabbiato quando te ne sei andato? Dall'Italia? Sì. Diciamo che... Eri un po' deluso? No, diciamo che in Italia il movimento sta un po' moreno, no? In questo momento abbiamo solo quattro squadre professional e quindi all'estero ci sono... Più opportunità. Più opportunità, più squadre grandi e sono stato quasi costretto ad andare all'estero. Nel 2013 ero già alla BNC che era una squadra svizzera-americana. Che lì ho fatto tre anni e diciamo che mi sono trovato bene, c'era un ottimo ambiente. E poi ho fatto due anni in una squadra australiana. Per poi fare un anno in una squadra di Dubai e adesso ritorno in patria. Ritornare. Senti, ma è vero che per poter correre in Italia bisogna pagare? Per entrare in qualche team? Sai, a me non mi è mai successo, quindi non voglio... Dirlo. Non voglio entrare in questo argomento. Quello che è certo è che per gli italiani, almeno credo, è bello correre per i team della propria patria, correre con i colori della propria patria. Per voi è una doppia chance, perché correre con una società mista credo che sia una grande opportunità. Naturalmente nella condivisione dei valori immagino non vi siano grandi differenze. Tra Italia e Giappone? Sì. Tra Italia e Giappone un po' di... Culturalmente un po' di differenze ci sono. Io già diciamo che dal 2014, che sono in questo team italo-giapponese, diciamo che loro sono venuti qua per imparare il ciclismo che conta, quello europeo, hanno un progetto, un bel progetto e loro sono molto strutturati e molto ligi al lavoro, quindi hanno le idee ben chiare, sono venuti qui per imparare e noi ne approfittiamo quando andiamo in Giappone per imparare qualcosa di giapponese. La mission del team è quella di crescere giovani talenti italiani e giapponesi. I giapponesi, sì. Quali altri valori vi sono nel team che fanno la differenza magari con altri? Ma sicuramente già quello di crescere talenti italo-giapponesi è un valore aggiunto. E poi più che altro che la nostra squadra ha sempre avuto una linea ben chiara contro il doping, infatti noi pubblichiamo su internet i nostri dati del passaporto biologico e quindi... Questa è l'unica squadra che lo fa? Questo è di pubblicare il passaporto biologico di ogni atleta su internet e quindi diciamo che la nostra mission principale è trasparenza e crescere nuovi talenti italo-giapponesi per un nuovo ciclismo più pulito. Quindi in transigenza per il doping. In transigenza per il doping. È così? Eh sì, per forza. Spesso il vostro team manager è stato accusato, insomma, bisogna avere carattere per far parte di una squadra con valori così alti, no? Perché poi la competizione... Sì, perché abbiamo fatto delle azioni forti, nel senso che nessuno mai era andato a pubblicare i propri valori ematici su internet e far vedere dove abbiamo trascorso tutto il nostro calendario e quindi rispetto a altre squadre siamo andati un po' più avanti e a volte essere anche avanti non è che essere... Non sempre paga. Sì, non sempre paga. Ecco, dicevi due culture diverse, naturalmente con vantaggi e svantaggi, ma sicuramente quello dello scambio culturale credo che sia un valore unico, eccezionale, no? Anche solo quello culinario. La forma fisica la mantenete mangiando giapponese? E quando vai in Giappone devi mangiare per forza giapponese. Quindi sushi... Sushi è volontà. Sì, non è solo sushi in Giappone, comunque sì. E invece i vostri compagni nipponici con la cucina italiana come se la cavano? Mangiano tutto. Sì, infatti. Poi uno dei piatti principali italiani diciamo che è la pasta ed è anche uno degli alimenti più importanti per gli atleti, quindi assaggiano tutti i tipi di pasta. Mangiate pasta tutti i giorni? Alle corse sì, perché è il carburante. Serve la fibra. Sì. E al vigno? Uno strappo alla regola? Gelato, dai. Un tanto. Zocchero non se ne parla. Della verità non abbiamo mangiato ancora. Siete qui per raffinare, tra virgolette, o completare la vostra preparazione perché la stagione non è finita, anzi la vostra è una stagione che dura ormai tutto l'anno, correndo in Italia e all'estero. Sì, dura da gennaio a novembre diciamo. Durante questo periodo, diciamo, dopo i campionati italiani si effettua quasi tutti, non tutti, dipende, magari qualcuno ha avuto qualche problema all'inizio stagione, quindi magari tende a essere più indietro con la preparazione e quindi arrivare direttamente a novembre con le gare. Invece chi ha fatto tutte le gare di gennaio, ora dopo il campionato italiano di solito c'è una settimana di stop e poi si riprende con la preparazione per preparare diciamo le gare di agosto e settembre, ottobre. Giugno è stato un mese importante, come è andata? Innanzitutto i campionati italiani assoluti, ma poi non solo. Ma io ho corso il giro di Slovenia dove sono andato discretamente bene, sulla riva in salita ho finito nono e nono nella generale, pensavo di andare un po' meglio a campionati nazionali invece sul finale un po' pagato. Cosa non ha funzionato? Anche perché era la tua gara, no? È una gara che sento particolarmente, però non tutti gli anni sono uguali e quest'anno si vede che era la gara che doveva andare così. Certo, nel tuo caso invece? Ma l'italiano per me era duro, io sono un passista veloce quindi sono andato a dare una mano più che altro a Ivan e a Marco che magari si diceva di più il campionato. Io ho fatto il Tour de Corea, ho fatto con i piazzamenti al Tour de Corea e la mia condizione era buona, era proprio il campionato italiano in se stesso che non era adatto alle mie caratteristiche. Ecco, uno degli obiettivi del vostro team, oltre che quello di crescere dei talenti e anche di arrivare pronti al grande appuntamento, quindi Tokyo. È un obiettivo anche per voi? Ma più che altro un obiettivo dei nostri giovani giapponesi sarà quello di effettuare più punti possibili per avere più corridori possibili a Tokyo e magari chissà scoprire un grande talento giapponese. Più un obiettivo loro, visto che l'Olimpiade ce l'hanno in casa e noi cerchiamo di aiutarli per arrivare pronti a una gara che per loro è veramente importante. Visto anche la vostra esperienza, cosa pensate delle wheeled card per poter partecipare al Giro d'Italia? Perché è senza alcun dubbio la gara regina, no? Penso che sia per un ciclista il vero obiettivo, no? Per un ciclista italiano. Sì, per un professionista italiano sicuro il Giro d'Italia è la gara più bella, più importante del calendario. Noi quest'anno, visto che era anche il centesimo anno del Giro d'Italia, pensavamo di riuscire a essere invitati o comunque che gli inviti andassero alle quattro squadre italiane. Anche perché appunto sono solo quattro. Sì, invece no. RCS ha pensato diversamente. Non è stato così e niente, devi subito cambiare obiettivi. Ma l'UCI e comunque la federazione non possono incidere in questo, non hanno alcun potere, per poter sensibilizzare gli organizzatori, per poter rivedere questa regola che di fatto penalizza soprattutto gli italiani, perché il Giro d'Italia fatto per i team stranieri fa sempre un po'… Credo che non possano, siano l'organizzatore del Giro che decida e l'UCI ha poco potere in riguardo. Se l'organizzatore decide per due squadre straniere, quello è… Siete troppo diplomatici. È la scuola nipponica. Sai, difficile. Poi entri in meccanismi che neanche noi sappiamo, quindi da fuori noi ci è dispiaciuto non esserci al Giro, però abbiamo sbattito alla delusione e pensato alle altre corse che c'erano in calendario. Quindi ora che lascerete Livigno? La nostra squadra adesso sarà impegnata, diciamo, in una triplice attività. Partiranno con i nostri compagni che andranno a fare il tour del King Guy Lake. Poi noi scenderemo per un breve periodo a casa di adattamento e andremo a fare poi domenica prossima il Matteotti che tra l'altro ha vinto nel 2012. Dopo il Matteotti qualcuno andrà al Giro di Colorado e Utah e altri invece faranno Eccio che è una gara in Spagna e Vuelta a Burgos. Ivan, andrai in Colorado? Io sì, prima il Matteotti domenica e poi Utah e Colorado. Due gare in America, si corre sempre in altitudine. Ecco perché è il Foscagno. Sì, quindi... A che altitudine? Allo Utah penso che è dai 1.500 in su, invece Colorado è un po' più alto. Sono gare importanti per voi? Tutte le gare sono importanti per noi, è sempre bello andare e fare il nostro meglio e se si riesce a portare a casa un buon risultato. Qual è il tuo obiettivo stagionale? Beh, spesso dopo le gare in America farò le corse del Carrendario Italiano e mi piacerebbe fare bene in quelle corse, soprattutto magari la Trevalli-Varesine, visto che finisce a un paio di chilometri da casa mia, mi piacerebbe correrla da protagonista. Niente Giro di Lombardia? Ancora non lo sappiamo, tutto sta agli inviti. Un'altra gara quindi di quelle che vi tiene con... Con il fiato sospeso, sì. Nonostante siete dei professionisti. Sì. Invece il tuo obiettivo stagionale? Ma anche per me, anche se faccio altri tipi di gare fino ad arrivare a settembre, comunque a settembre ci sono il clou del calendario italiano che per noi è molto importante e quindi sarà anche un mio obiettivo fare bene in quelle gare che mi si addicono del calendario italiano di settembre. Sei sposato? Non so se hai dei figli... No, non ancora. Non ancora. Ho due gatti. Hai due gatti per ora. Beh, per loro non è sicuramente... Ma avrai sicuramente dei figli un giorno? Vorresti che facessero il tuo stesso percorso? Li vorresti vedere in bici? Ma sinceramente no, poi prendano la strada che vogliono loro, però penso che un po' di paura per le strade c'è e forse il ciclismo è uno sport molto duro, quindi gli auguro di prendere una strada un po' più facile. Diversa. Il ciclismo è anche o è diventato anche uno sport pericoloso? Beh, diciamo che purtroppo lo sta diventando e non è facile sensibilizzare le persone che ci girano intorno mentre noi facciamo magari allenamento. Ci sono successi molti casi negli ultimi anni, diciamo che quando a perdere la vita uno sportivo professionista fa più che l'amore, però succede anche a persone normali e la gente quello che non capisce è che in bicicletta ci si va normalmente a prendere il pane, ci si va il proprio bambino al parco giochi e ci vado io tutti i giorni che vado in bicicletta per lavoro. La gente magari pensa solo al ciclista che può essere in pericolo, quello che lo fa per sport, invece in bicicletta ci vanno tutti. dal bambino alla mamma che va a prendere il pane e a chiunque e quindi non è un problema che riguarda solo noi corridori che facciamo sport, ma è un problema che riguarda tutti. Certo, il 2017 fa particolarmente specie perché abbiamo visto il drammatico incidente in cui ha perso la vita Michele Scarponi, poi è il pilota della Honda Aiden, la tedesca, la triatleta tedesca, sempre in Romagna, adesso non ultimo che sta tenendo col fiato sospeso, l'incidente di Claudia Cretti. Tanti incidenti e poi come sempre si discute della sicurezza, delle responsabilità. Dicevi sulla strada ci vanno tutti, è vero, tutti i giorni muoiono ciclisti sulla strada e fanno purtroppo meno clamore magari di altri. Ma è cambiato il modo anche di andare sulle strade, comunque le strade sono molto più trafficate. Spesso si vedono atleti come nel vostro caso, come voi, pedalare l'uno a fianco all'altro, anche questo fa sempre un scooter, no? Vedere magari un team che occupa mezza careggiata e chiaramente quando si è sui passi tra una curva e l'altra la visibilità è sempre limitata, il pericolo si alza. Cosa pensi? Penso che dovrebbe esserci una convivenza migliore sulle strade, sia per i ciclisti che sicuro non vanno bene, i gruppi della domenica che occupano tutta la carreggiata, però non vanno bene neanche le macchine che ti passano a meno di un metro o a cento all'ora, magari quando il limite di quella strada è cinquanta. Quindi è un po' colpa a volte dei ciclisti, e a volte però, cioè le macchine, cioè la macchina non si fa niente, però se prendi una persona in bicicletta non ha protezioni. Sì, quello è vero. Ci rimette sicuramente quando un ciclista viene preso sotto da una macchina, non esce, magari se ne esce con qualche ossa rotta se va bene, se va male non c'è più. Certo. Naturalmente voi non uscite pensando al pericolo, perché... Certo, ormai nel mondo di oggi sono molte più disattenzioni e anche alla guida tante persone si distraggono. Io esco spesso da solo in bicicletta, io sono della Spezia, dietro le cinque terre e mi alleno spesso da solo. Mi capita quasi tutti i giorni, non quasi tutti i giorni, però mi capita spesso che delle macchine ti sfiorino, però io sono un professionista e sono abituato, nel senso che... Non ti spaventi. Non mi spavento e mantengo sempre la mia traiettoria. Magari uno che è un po' più... Alle prime armi diciamo che si potrebbe anche spaventare. Un po' la stalla convivenza di tutti. Giustamente, come ha detto Ivan, i ciclisti magari da domenica che occupano tutta la carreggiata, è maleducazione anche da parte loro. Essere leader di una squadra che appunto vuol far crescere dei giovani, soprattutto quando sei all'estero con questi ragazzi, che effetto ti fa? Come ti senti nei confronti di quelli più giovani che iniziano? Sicuramente per me è orgoglio far parte di una squadra e essere quello che diciamo che insegna ai giovani come è il nostro sport e come è la nostra vita e soprattutto anche i giapponesi che magari di ciclismo se ne intendono meno. Già diciamo che gli italiani che passano professionisti hanno già fatto magari il professionismo da dilettante perché già diciamo che nei dilettanti da noi è esasperato, ma da loro diciamo che è visto più nei dilettanti come quasi un hobby, un divertimento. Quando si trovano a fare magari professionisti hanno bisogno di qualche dritta. Di essere guidati. Sì, di essere guidati e effettuare questo ruolo per me è anche questione di orgoglio e mi rende felice. Con i giovanissimi? No, sai sempre avere, diciamo che ormai ho un bagaglio di esperienza grande e mi fa piacere mettere la disposizione di dei giovani, più dei giovani che vogliono ascoltarti e non vengono, non vogliono fare di più, no? Certo. Poi non siete tutti giovanissimi perché per esempio anche un ego ha la sua discreet età, no? Sì, però va sempre forte, dai. Soprattutto i giapponesi è bello dare a loro degli insegnamenti e non serve neanche tanto stare lì a spiegargli perché loro si mettono nell'angolo e ti guardano, scrutano tutto quello che fai. Osservano. Osservano e sono molto veloci a imparare, infatti in pochi mesi hanno imparato anche a parlare italiano. Incredibile. Sì, se devo pensare di imparare tutto il giapponese mi viene male. Però immagino che anche voi avrete molto da imparare e quindi sarà anche piacevole anche da questo punto di vista. Sì, è uno scambio culturale. E viaggiare col motorhome? Bus, col bus? Eh, quando vai alle gare. È bello quando vai alla partenza. Siete molto organizzati, è un team molto organizzato. Sì, abbiamo un bus dove andiamo alle gare che non è lo stesso che usano i calciatori che c'è solo i seggiolini. Noi abbiamo le docce, abbiamo la cucina, abbiamo la zona riunioni, abbiamo la zona... L'officina anche. Abbiamo anche un altro camion che fa solo da officina, diciamo. Ne abbiamo due. E quindi diventa anche un po' una casa viaggiante quando ti sposti tra un albergo e l'altro. Quindi siete molto uniti e molto famiglia. Sì, passiamo un sacco di tempo insieme. Diciamo che io e Ivan quando partiamo la stagione a gennaio è più facile che vedo più lui che la mia ragazza fino ad arrivare a novembre. Bene. Allora in bocca al lupo per le vostre gare. Crepi, grazie. Speriamo che Livigno vi abbia, insomma, galvanizzato, no? Sì, a Livigno ci sta bene. Non solo per gli allenamenti, immagino. No dai, ogni tanto, ogni giorno di riposo, una girata per le vie del centro l'abbiamo fatta. Senza scendere in bici, ovviamente. No, in macchina, in macchina. È un luogo dove ci si può anche distrarre, tra virgolette, quindi... Sì, c'è tutto, diciamo. Un giorno abbiamo preso anche le mountain bike, però con le elettriche. Ah, ecco. Che cosa pensate delle biciclette pedalate assistita? Eh, vanno bene. E quando li vedete che vi passano... No, beh, forse passarvi no, ma... Eh, sì. Ci sono quelle belle potenti che ti passano quelle con le ciabatte e ti dicono... È vero. Era un riferimento questo. È divertente perché in alcune gare adesso vengono inserite queste speciali categorie, no? Delle bike, sì. Delle bike, sì. Che cosa ne pensate? Per esempio, questo è accaduto lo scorso fine settimana sullo Stelvia, dove hanno aperto anche la competizione a una categoria e-bike. E che deve essere bravo a gestire la batteria perché se si spegne a metà pesa, non portarla in su. Sì. Sì, penso peserà il doppio di una bicicletta normale, quindi se si finisce la batteria... È un dramma. Sì, è un dramma. È un problema. Pensavo mi dicesse abbiamo provato le fat bike. Sì, anche. Anche. La fat bike è anche elettrica. Elettrica. Anche elettrica. Sì, perché il giorno di riposo non è che abbiamo tanta voglia di fare fatica. Il down hill invece no. Abbiamo provato alcune piste qua a Livigno, sì. Abbiamo fatto quella di Carosallo 3000. Vi siete divertiti? Sì, sono divertito. Anche l'anno scorso ho fatto questa qua che dal motolino viene giù, fino qua, giù in basso e mi sono divertito, sì. Acqua grande? Acqua grande ci manca. Vi manca? No, io sono stato una volta anche lì. Sì? Sì. Ebbè, non potete far tutto in una volta sola, quindi dovrete tornare. No. Grazie di essere stati con noi. Grazie a Pierpaolo De Negri. Grazie a te. E a Ivan Santarumita. Grazie. Naturalmente anche a voi da casa che ci avete seguito. Arrivederci.